Il Covid Hospital realizzato in Fiera del Levante a Bari può entrare in funzione. Questo almeno è scritto nella determina regionale numero 62 del 1 marzo. Provvedimento emesso dalla Regione a seguito della trasmissione del piano di attivazione da parte del Dipartimento Salute, con il quale si prevedono inizialmente 106 posti letto, 14 dei quali di terapia intensiva. Numeri contenuti nel report che la Regione aveva trasmesso ai sindacati di medici e infermieri in vista dell'incontro convocato per lunedì pomeriggio e disertato proprio dai sindacati dei medici. L'accusa di questi ultimi nei confronti della Regione è quella di una gestione arrogante nell'attivazione del Covid Hospital senza coinvolgimento delle parti direttamente interessate. Il punto di scontro è quello relativo al fabbisogno di personale che la Regione fissa in 70 medici, 9 per la terapia intensiva, 156 infermieri, 50 operatori sociosanitari e 38 ausiliari. Oltre alla terapia intensiva è prevista l'attivazione della subintensiva pneumologica e area medica in nefrologia e dialisi. Al regime i posti letto di area medica, si legge nella determina, saranno gestiti da 37 medici, 72 infermieri, 24 operatori sociosanitari, 6 per ogni modulo e 24 ausiliari, 6 per ogni modulo. Sarà garantita la presenza di 0,6 medici per posto letto, 1,2 infermieri per posto letto e 0,75 per posto letto di personale di supporto. Per l'attivazione del Covid Hospital, costato 20 milioni di euro, manca l'ultimo tassello, che il personale non sia solo su carta ma venga reclutato e dislocato nei moduli allestiti in fiera, discutendo questo passaggio anche con le rappresentanze sindacali.